La calificazione della casa natale che è diventata museo di Luigi Pirandello è soltanto la prima tappa di un lungo percorso che coinvolge una ventina di case museo in Sicilia appartenute a siciliani illustri o di nascita o di adozione. Le condizioni in cui si trovava erano davvero inaccettabili, era proibito l'ingresso ai disabili, non c'era alcuna attività che potesse stimolare la curiosità del visitatore, nulla che appartenesse alla elettronica. Abbiamo voluto in pochissimi mesi ristrutturare, riqualificare la casa museo, c'è adesso un ascensore che consente l'accesso ai disabili, i bagni, i servizi igienici sono aperti a tutti e soprattutto abbiamo introdotto elementi innovativi per dare un'anima a questa casa museo perché ognuno possa, nel contatto fisico con la struttura, possa cogliere il meglio la sensazione, l'emozione di uno dei più grandi siciliani di tutti i tempi. È soltanto l'inizio, dicevo, di un percorso. Abbiamo destinato 20 milioni di euro alla riqualificazione delle aree museali dell'isola appartenenti alla regione e per fortuna il primo passo, il più importante, è stato già compiuto. Sì, io vorrei dire che già da questi primi scorci di visita si vede come l'offerta di questo luogo richiama le parole di Luigi Pirandello, richiama l'opera di Luigi Pirandello grazie all'importante lavoro di consulenza scientifica e il fatto che l'inaugurazione avvenga oggi, si è aspettato un po', ma era necessario per adeguare questo luogo è una data doppiamente simbolica, perché oggi ricorre l'anniversario della morte di Luigi Pirandello ma ricorre anche l'anniversario di quel 10 dicembre del 1934 nel quale Luigi Pirandello ritirò il Nobel per la letteratura dopo che gli venne comunicato l'8 novembre, due mesi prima, a sorpresa. Ecco, è una doppia festa, una doppia celebrazione che noi vogliamo onorare riaprendo questo luogo alla fruibilità e facendolo nel modo migliore con una visita ricca di suggestione che, come diceva prima il Presidente, mantenga fede alla scientificità della ricostruzione del pensiero pirandelliano ma con un'immagine nuova anche aperta ai tanti ragazzi che vogliamo e auspichiamo siano veramente numerosi in questo luogo, a partire dalle iniziative culturali che saranno organizzate da qui a fine anno e con i primi giorni del 2022. Gli interventi non sono finiti? Il Presidente parlava di ulteriori migliori? Sì, il Presidente poc'anzi ricordava come prima dell'estate ci sarà un altro tassello che metteremo nel suo giusto posto. Abbiamo in essere la realizzazione di una statua di cera di Luigi Pirandello commissionata a un importante istituto internazionale che completerà, in realtà non la completerà, sono previsti altri accorgimenti, l'offerta museale di questo luogo che finalmente si adegua a quelli che sono gli standard europei. Aggiungo, meno di un anno fa, a fine ottobre inauguravamo un museo archeologico gestito dal parco archeologico di Taormina e di Naxos. Oggi inauguriamo una casa museo dedicata a un grande di Sicilia del Novecento. Ecco, la politica culturale del governo musumeci va nella giusta direzione, che è quella di valorizzare i nostri beni culturali e di mettere in testa alla nostra classifica i beni culturali.